in tutti i modi possibili e immaginabili, che dica sì alla formazione, quindi alla consapevolezza di quello che comporta il gioco e successivamente che poi predisponga pure, come conviene al Ministero della Salute, i contesti più adeguati in cui coloro che sono incappati nella maglia di una dipendenza grave dal gioco d'azzardo possono essere curati, stante il fatto che è lo stesso Stato a rappresentare un fattore di rischio attraverso l'Agenzia dei Monopoli. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3.2574 del deputati Basso ed altri, concernente iniziative volte a ripristino della viabilità sulla strada statale numero 1 Aurelia nel tratto di Arenzano in provincia di Genova. L'onorevole Dito di Filippa ha facoltà di rispondere. Grazie, grazie Presidente. Lo scorso 19 marzo una frana di vaste proporzioni si è staccata sul versante del monte della strada statale numero 1 Aurelia in corrispondenza del chilometro 547 più 700 nel territorio del comune di Arenzano, invadendo con materiale detritico un ampio tratto della stessa carreggiata. La società ANAS riferisce di aver prontamente chiuso il transito veicolare su quella strada e individuati i proprietari dei terreni dai quali ha originato lo smottamento, ha poi provveduto a sanzionarli in base a quanto disposto dall'articolo 31 del codice della strada, notificando loro gli atti di diffida per la messa in sicurezza e il consolidamento dei terreni sovrastanti l'arteria stradale. Il giorno stesso in cui si è verificato il distacco detritico, anche il comune di Arenzano ha emesso da parte sua un'ordinanza con la quale obbligava i proprietari a provvedere alla stabilizzazione degli stessi terreni. Il successivo 22 marzo 2016 l'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro l'area interessata all'evento. Il sequestro cautelativo delle aree è stato verbalizzato dal Corpo Forestale dello Stato e il 24 marzo è notificato all'ANAS il 30 dello stesso mese. Da parte del MIT, al fine di garantire la continuità dei collegamenti e la transitabilità dell'area interessata dalla completa chiusura del traffico della SS Aurelia in comune di Arenzano, con nota del 23 marzo 2016 si è provveduto ad autorizzare la Società Autostrade per l'Italia ad applicare l'agevolazione tariffaria alle autovetture di classe A dei residenti pendolari nei comuni interessati per la tratta Arenzano-Geneva-Voltri, con decorrenza dalle ore mezzanotte del 24 marzo fino al ripristino delle normali condizioni di percorribilità della stessa strada. In particolare, per tale categoria di transiti è stato previsto un rimborso del 70% dell'importo, previa presentazione alla società concessionaria di blocchi di scontrini di pagamento corredati da un'autocertificazione relativa al luogo di residenza e ai motivi dello stesso pendolarismo, il rimborso verrà effettuato tramite l'erogazione per ogni 20 scontrini di 14 buoni per agio, tutti ovviamente gratis, per la medesima tratta di percorrenza. Con nota del 12 settembre scorso, il compartimento della viabilità per la Liguria ha trasmesso il provvedimento di dissequestro della corsia a mare della SS Aurelia, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 7 settembre 2016 e in pari data ha anche fornito copia dell'ordinanza compartimentale numero 60, con la quale è stata disposta la riapertura a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e o da movieri del tratto precedentemente chiuso al traffico, con l'impostazione del limite di velocità a 30 km orari e del divieto di sorpasso, nonché il divieto di transito ai pedoni e il divieto di sosta per veicoli ai margini della strada. I lavori in cantiere proseguono in linea con il cronoprogramma e ANAS prevede la riapertura a doppio senso di marcia entro il prossimo 5 dicembre. Ritenendo di fatto superato la fase di emergenza posta a motivo della predetta agevolazione tariffare disposta proprio dal Ministero, se ne è disposta la revoca a far data proprio dalla mezzanotte del 17 settembre 2016. Con questa revoca è stato altresì raccomandato, in caso di allerta arancione e di concreto inizio delle precipitazioni, nonché in caso di allerta rossa, così come disposto dalla Procura di Genova, di provvedere all'immediata cesura della strada con conseguente deviazione del traffico sull'autostrada 10 tratta Arenzano-Genova-Voltri e viceversa. Nelle fasi di allerta arancione e di allerta rossa, che dovranno essere comunicate da ANAS alla società concessionaria, quest'ultimo dovrà procedere, secondo quanto previsto dalla citata nota del 23 marzo 2016, all'autorizzazione dell'agevolazione, ancora una volta, del pedaggio, dandone comunicazione al MIT con un'adeguata informativa anche per l'utenza, che ovviamente dovrà essere agevolmente messa a conoscenza delle questioni. Grazie. Grazie a lei. L'Onorevole Basso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Cinque minuti. Grazie, Presidente. Sono certamente soddisfatto e ringrazio il Sottosegretario De Filippo per la risposta e il Governo per l'interessamento e le azioni intraprese. Voglio anche ringraziare in questa sede il Ministro del Rio per essersi direttamente interessato e per aver voluto informarsi personalmente, chiamando il Sindaco di Arenzano, per valutare la situazione. Devo però rimarcare come, nonostante il preficuo interessamento del Governo, siano stati necessari oltre cinque mesi per la riapertura di una sola corsia senso alternato e come per il ripristino completo e ritorno alla normalità, auspicando che vengano rispettati i tempi che prima sono stati ricordati dal Sottosegretario, saranno comunque stati necessari oltre nove mesi. In questo lungo periodo di tempo, l'economia della cittadina di Arenzano, che è legata in maniera prevalente al flusso turistico dei mesi estivi, ha subito un danno così importante da comportare il fallimento di alcune delle piccole...